Nome? Anna. Andrea. Anni? 16. 17. Provenienza? Trento. Gardolo. Perché hai scelto buonarrotti? Sul consiglio di un professore. Perché era la scuola che secondo me affrontava meglio informatica. Perché informatica e telecomunicazioni? Perché mi sono sempre piaciute le nuove tecnologie. Perché dalla terza media ho questa passione. In questa scuola hai trovato? Amicizia, divertimento e una strada sfianata. Un luogo in cui coltivare questa passione e incentivare le mie qualità. Quale professione ti piacerebbe intraprendere? Insegnante di scienze motorie. Programmatore mobile. A chi deve scegliere la scuola superiore? Scegli senza farti influenzare. Parola chiave passione. Saluto. Alt 67, 73, 65, 79 ovvero ciao! Ci vediamo al buonarrotti.